Due nuove ordinanze sono state emanate dal sindaco del comune di Santa Marina Giovanni Fortunato al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19. Si dispone l'apertura al pubblico dei soli uffici comunali di Anagrafe Stato Civile Protocollo a Santa Marina Capoluogo e nella frazione di Policastro Bussentino Anagrafe Stato Civile. Nell'ordinanza è fatto divieto ai non residenti del comune di Santa Marina di praticare nel territorio comunale le attività motorie, sportive e ricreative legate al jogging, alla pesca e alla canoa. È stato sospeso il mercato settimanale con esclusione degli ambulanti residenti nel comune di Santa Marina. Al personale addetto ai cantieri edili è consigliato di non allontanarsi dal proprio posto di lavoro durante la pausa e di consumare il pasto in loco. L'amministrazione Fortunato, che io rappresento, ha detto il sindaco, ha sempre inteso garantire e tutelare i cittadini. Metteremo in campo tutte le misure possibili per ridurre i rischi per la salute pubblica, garantendo nel contempo il mantenimento dei servizi essenziali. Questi gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Anagrafe Stato Civile Protocollo a Santa Marina Capoluogo nei giorni di lunedì dalle ore 9 alle 13 e di giovedì dalle ore 16 alle 18. Anagrafe Stato Civile a Policastro Bussentino, frazione, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 13. Il ritiro degli atti potrà avvenire unicamente nei giorni di lunedì dalle ore 9 alle 13 e di giovedì dalle ore 16 alle 18 negli uffici posti al piano terra della Casa Comunale. Gli altri uffici comunali potranno essere contattati solo telefonicamente.